Buongiorno a tutti, allora oggi faccio un video veramente veloce veloce perché non avrei neanche dovuto fare video oggi anzi sto andando a vedermi il film dei Pokémon, ditti anzi, sono felice ma sono qua appunto per parlarvi di due cose principalmente in primis è l'incontro che ci sarà a Milano, ovvero la Diva del Tubo fa un incontro a Milano io dovevo andarci in quanto comunque volevo conoscerla e tutto quanto lei mi ha approfittato dicendomi di fare un incontro anche insieme a lei con magari i miei iscritti o comunque chi mi vuole conoscere, quindi allora ho detto sì dai va bene ci sta poi almeno se non viene nessuno per me ci sono le sue dirette, allora mi sento meno a disagio e quindi sono sincero, io ho sempre avuto paura di fare un incontro perché magari non veniva nessuno quindi mi sentivo un po' delugia, vabbè, niente lasciamo perdere quindi allora ci sarò anch'io ovviamente come ha detto lei nel suo video, vi linko il video qua sotto che ci sono tutti i riferimenti a dove ci si incontra, all'orario e quant'altro, quindi se volete partecipare all'evento comunque conoscermi, conoscere anche lei ovviamente, vi lascio qua sotto il suo video dategli un'occhiata, lì c'è scritto tutto quindi sono felice, ci sarà ovviamente, anzi ci sarà ovviamente anche la signorina Maria Carla, vero signorina ci sarai anche tu, ok, ho detto boh oggi pesa un quintale non capisco il perché, però va bene, quindi niente, fattimi sapere se ci sarete, se non ci sarete io ci tengo a conoscervi perché ovviamente ci tengo a scambiare quattro chiacchiere con voi che comunque mi seguite in maniera un po' più personale rispetto a un commento su YouTube quindi insomma mi fa piacere e quindi niente, l'evento comunque in linea generale si terrà venerdì 27 qua a Milano al Duomo quindi io vabbè, ci sono ormai, io col Duomo ci sono ormai a vezzo da miliardi di anni ormai io come ho sempre detto vivo lì, quindi per me non è una gran fatica esserci chiuso questo argomento in cui vi dico per favore venite, venite, venite che mi farebbe un piacere immenso, ovviamente chi può l'altra cosa che vi volevo dire è che mi hanno contattato da una radio, una radio regionale piccolina così, da una radio che poi vabbè anche web radio e mi hanno chiesto di partecipare al loro programma dove mi intervisteranno e quindi niente, la radio si chiama Radio Interland poi andate a cercarla comunque veramente una radio piccolina la web radio in questione è Radio del Nulla trovate comunque anche qua tutti i link sempre nell'infobox perché ovviamente per chi, essendo una radio piccolina credo che prenda come FM solamente Milano e Vigevano però comunque sia potete seguire lo streaming della puntata in cui sarò ospite quindi appunto vi metto il sito così almeno se non siete nei paraggi per seguirla direttamente dalla radio appunto potete seguire lo streaming quindi vi dico anche questo, io sono imbarazzato a morte come sempre questo video praticamente è il video dell'imbarazzo ma va bene e quindi niente, mi raccomando partecipate all'incontro perché sarebbe, cioè è oggettivamente anche se non è mio perché alla fine è quello della diva però alla fine ci sarò anch'io quindi in teoria è il mio primo incontro quindi sono contento, quindi niente, basta quello che vi volevo dire ve l'ho detto, l'incontro il 27 a Milano e la radio ah sì, ciao, non vi ho detto qua nel radio il radio ci sarò domani, in teoria io devo essere lì dalle 18 quindi non ho ben presente l'ora in cui credo dato che c'è un programma che inizia alle 18.05 comunque credo che sarò dentro il programma quello delle 18 credo che duri dalle 18 alle 18.30 quindi è una roba veramente veloce quindi niente, basta quello che vi volevo dire ve l'ho detto seguitemi domani in radio anche mi farebbe piacere però fatemi sapere se faccio totalmente già la mia voce mi fa cagare quindi già non mi vedono è una cosa orrenda in più sentire solo la voce vabbè niente, fatemi sapere se farò cagare in radio e tutto quanto tutti i link utili a quello che ho detto ripeto e ribadisco li trovate nell'infobox e niente, ci sentiamo domani in radio e ci vediamo venerdì a Milano alla prossima e buone notte e buone botte come dicevano a Celebrity Deathmatch